e quindi così abbiamo ristabilito questa connessione questo legame con la costellazione orsa maggiore e così noi mentalmente connettiamo la zampa sinistra di dietro con la zampa destra sempre da dietro mentalmente ora connettiamo questa zampa sinistra con la zampa destra dopo di che invece noi connettiamo l'orecchio sinistro all'orecchio destro e ora con la nostra vista fisica noi guardiamo proprio negli occhi dell'orsa dopo che abbiamo guardato nelle occhi dell'orsa maggiore noi ad un certo punto possiamo percepire che dal fianco sinistro dell'orsa maggiore si emette un'energia calorosa un'energia calda questa è l'energia delle stelle della costellazione orsa maggiore connessa all'energia di una infinita quantità di altre stelle questa è l'energia vitale l'energia della vita energia e lecce e se ne è un'energia della vita eterna questa energia viene rappresentata da grigori petrovic sotto forma della sequenza numerica quindi noi possiamo lavorare con questa sequenza numerica anche utilizzando il dispositivo e noi possiamo riempirci con questa energia della vita eterna possiamo riempire il nostro organismo con questa energia attraverso la pelle per esempio percepite la vostra immagine immaginate voi stessi e potete percepire come dal fianco sinistro dell'immagine della costellazione arriva questa energia calorosa della vita della vita eterna che entra nella vostra immagine e vi riempie entrando attraverso la pelle vediamo anche che gli eventi necessari e gli eventi che noi desideriamo che vogliamo possiamo anche percepire come questi eventi vengono riempiti con questa energia